Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo piccolo video dove parliamo di fortuna. Di fortuna, sì, perché ieri insieme a mia moglie sono stato per l'ennesima volta al cinese, che è uno dei ristoranti qui a Padova che mi piace di più, lo so, sono una persona abbastanza strana, e nelle storie di Instagram ieri ho postato che cosa? Un bigliettino della fortuna che diceva mi premoniva un futuro bellissimo. E l'ho postato con delle, tipo una faccina che ho scritto pazzesco. Alcuni mi hanno scritto ma come è pazzesco, non lo sai che i biglietti, i biscottini della fortuna sono tutti positivi, tra virgolette. Ovvio, lo sapevo, però io mi riferivo al fatto che ci sono stato meno di dieci giorni fa con mia moglie e c'era un bigliettino molto simile. E allora qualcuno ha iniziato a scrivermi e a ipotizzare che io creda in queste premonizioni dal futuro. La verità è completamente l'opposta, opposta. Non credo nella fortuna, o meglio, non credo. Credo che nel mondo esista una certa percentuale di casualità, per cui non si può negare il fatto che tra un momento all'altro potrebbe caderci sulla testa un meteorite o qualcuno potrebbe chiamarti per dirti che il tuo zio d'America ti ha lasciato in eredità una cospicua somma di denaro. Questo è possibile. Diciamo che l'esperienza delle persone è piena di eventi del genere. Però, da un punto di vista psicologico, non credo per nulla nella fortuna. Ed è molto importante afferrare questo concetto. Qui, nei miei vari canali di divulgazione, puoi trovare molte puntate dedicate alla fortuna, perché circa tra il 2008 e il 2010 ho approfondito tantissimo il lavoro di un mio collega inglese molto famoso che si chiama Richard Wiseman. Richard Wiseman è un professore inglese che si è occupato di tanti argomenti, tra questi argomenti si è occupato anche della fortuna. E in particolare ha creato un bellissimo libro che ti consiglio di andare a ripescare dal passato che si chiama Fattore Fortuna o The Luck Factor. È davvero un libro molto interessante che ci dice due o tre cose che sappiamo da tanto tempo. La prima è che la fortuna, da un punto di vista psicologico, è l'unione di due variabili che sono la preparazione e l'occasione. Se ci pensiamo bene è davvero così, cioè se una persona è particolarmente fortunata, diciamo così, da ricevere una determinata opportunità, ma non è preparata, questa opportunità non si concretizza. Ammettiamo, facciamo un esempio, stai mangiando in un ristorante, accanto a te c'è il più grande produttore discografico di tutti i tempi, quello lì nota che avete l'orologio identico, inizia a parlarti di orologi, tu magari sei appassionato di orologi, inizia a parlare con lui e lui dice cavolo ma sei davvero una persona interessantissima, potresti fare un provino con me, ma mettiamo che tu non abbia alcuna competenza musicale, ecco che quell'opportunità non serve a niente, no? Giusto? Se invece tu sei un musicista preparato, no? Mettiamo il caso, e accade la stessa identica cosa, è ovvio che tu hai la preparazione più l'occasione, quindi quello che noi dobbiamo fare per diventare più fortunati è aumentare il nostro grado di competenza, di preparazione, e poi aspettare l'occasione, l'occasione che ovviamente possiamo aspettare o cercare di crearci, esempio, se sei un appassionato di musica, vuoi fare musicista, dovresti frequentare degli ambienti dove presumibilmente ci siano, o ci sia abbondanza di discografici, produttori, musicisti come te e quant'altro, quindi far sì che questa occasione non sia completamente dettata dal caso, ma sia dettata anche, ancora una volta, dal tuo impegno. Quindi l'impegno e il mindset mentale della fortuna sono fondamentali appunto per aumentare questo grado, chiamiamolo così, di fortuna. Questo è particolarmente importante nella nostra società, una società dove il divario economico tra ricchi e poveri, come sappiamo, è diventato sempre più alto, gli ascensori sociali sono pochi, gli ascensori sociali sono tutte quelle opportunità che possono permettere ad una persona che nasce, ad esempio, ad un livello, chiamiamo così, societario basso, di scalare la società, arrivare ai livelli più alti, quindi dal, diciamo così, dal più basso della scala gerarchica, arrivare a fare il Presidente del Consiglio. In realtà è così, in realtà non è vero che non esistono questi ascensori sociali se guardiamo il nostro governo in questo momento, però a parte battute politiche a parte, è molto importante invece che io ti mandi il messaggio che bisogna stare attenti all'idea, appunto, non esistono più ascensori sociali e quindi l'unico modo per arricchirmi è affidarmi alla fortuna. E come fortuna in questo caso a che cosa mi riferisco? Mi riferisco alle slot machine, ai grattevinci, e a tutte quelle cose che tecnicamente ogni esperto dovrebbe definire minchiate, dove vince solo una persona che di solito è il banco e che, come sappiamo molto bene, sono semplicemente degli specchietti per le allodole. Ora, non c'è alcun male nell'acquistare una volta ogni sei mesi un grattevinci, comprare una volta all'anno il biglietto della lotteria o una volta quando siamo in attesa in un aeroporto mettere una moneta dentro una macchinetta, ma in generale sono tutte situazioni che, a parte essere pericolose perché provocano una certa dipendenza, non portano da nessuna parte. Così come i bigliettini che ho trovato dentro i biscotti della fortuna cinesi non hanno alcun effetto sulla mia psicologia e soprattutto non hanno alcun effetto sul mio livello di benessere psicologico. Certo, posso convincermi che mi facciano bene, ma può accadere anche il contrario. Pensa se invece di quel bigliettino ci fosse stato scritto la tua vita sarà un disastro. Ecco che questo avrebbe potuto condizionarmi, ma in negativo. Ovviamente nei biscottini della fortuna, così come nella maggior parte di questi giochini, ti devono dare un po' l'idea che qualcosa stai guadagnando. Così magari ogni 3-4 gratte vinci, vinci 2 euro. Oppure all'interno dei biscottini della fortuna, se magari ne compri 100, li apri, scopri che 90 frasi sono positive, 5 sono ambigue e 5 sono negative. Perché se ogni volta che tu apri un biscottino della fortuna ci trovi la frase negativa, questa ti rovina la cena. Solitamente il biscottino della fortuna ti viene portato al termine della cena. Quindi il mio consiglio è quello di andarti a riascoltare sia le passeggiate che ho fatto sulla fortuna, che puoi trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, eccetera. Anche le puntate che ho dedicato alla fortuna, perché Wiseman ha fatto degli esperimenti pazzeschi, ha provato che pensare di essere fortunati o sfortunati cambia tantissimo a livello percettivo. Cioè una persona che si sente particolarmente sfortunata ha un'incapacità di osservare le occasioni che le capitano sotto gli occhi. Questo l'ha fatto anche il nostro amico Darren Brown, il mentalista più famoso del mondo, dove ha cercato di ricreare alcuni esperimenti di Wiseman. Ad esempio, le persone che si sentivano particolarmente sfortunate, anche se tu gli mettevi davanti agli occhi banconote da 200 euro, non le vedevano. Mentre le persone che si ritengono fortunate è come se avessero una mentalità maggiormente aperta, meno fissata, e quindi riescono facilmente a cogliere le opportunità della vita. Quindi, in definitiva, non credo assolutamente né ai biscottini della fortuna, né al grattevinci, né alla fortuna in generale, per quanto questo non significhi che non esista, come possiamo dire, che non esista una certa percentuale di caso, la percentuale di caso esiste, uno potrebbe chiamarla fortuna o sfortuna, ma l'idea che esista una fortuna, che tu puoi ingraziarti grazie a biscottini della fortuna, grattevinci, amuletti mistici, eccetera, non ci credo neanche un po', anzi è pericoloso, e come vedrai, ascolterai, guardando le puntate di Psynel su questo tema, quando crediamo eccessivamente nella fortuna, perdiamo potere, perdiamo capacità di osservare davvero il mondo, e soprattutto diventiamo come dei topi condizionati di Skinner, come vedrai nelle mie differenti puntate, ho paragonato le persone che giocano alle slot machine o al grattevinci, esattamente ai topi di Skinner, altro che mi piace dei social network, ragazzi, che per quanto siano pericolosi anche quelli, e qui ci troviamo, e sicuramente c'è da discutere anche su quella faccenda lì, dello spike di, appunto, delle catecolamine durante il mi piace dei social network, ecco, quel nemico lì è molto, molto più pericoloso. Va bene, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un commento qui, mettete mi piace, condividete questo video, insomma, aiutatemi a far crescere il desiderio di psicologia, ad avvicinare le persone alla psicologia, e facciamo in modo che anche la psicologia si avvicini alle persone. Ciao!